Ciao a tutti, oggi prepareremo il contorno di patate, specche e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a cubetti, piselli surgelati, scalogno, olio evo, specca a listarelle, sale e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo spec ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettere l'acqua, un cucchiaino di sale, posizionare il cestello con i piselli, chiudere con il coperchio, condire le e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. le patate sono cotte, i piselli sono cotti, versare nella ciotola con lo spec, amalgamare bene e servire. Contorno di patate, spec e piselli. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.